Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ART Siamo ancora una volta su Destiny 2 Stiamo per affrontare l'ultima missione su Nessus Liberazione, sembra che i Vex stiano catturando i caduti Felsafe chiede di fermarli Armamento raro Capitano, sembra che i Vex stiano catturando dei caduti Ho rilevato tantissimi prigionieri in una caverna nella tua area Entra nella caverna Non occupo a nessuno di essere imprigionato dai Vex Forse possiamo aiutarli? Felsafe, guarda che probabilmente i caduti non ci ringrazieranno per l'aiuto Credetemi, comunque sia, mi farete un favore E da qui dove si va? Scusate ragazzi, curiosità proprio Non si può andare da nessuna parte Vabbè, forse qua andremo, ci torneremo alla fine quando finiremo tutto Però per il momento il portale è chiuso Comunque raga, i centauri non sono dei pianeti I centauri sono semplicemente degli enormi meteoriti Hanno sbagliato da questo punto di vista Nessus in realtà dovrebbe essere un meteorite Senza atmosfera, senza niente Semplicissimo Ciao Ci siamo Non ho mai partecipato a un'evasione Buona fortuna capitano Guardia Minotauro di nuovo Dove guardi? Spettro A destra Vabbè, uccidiamo prima sto tizio Ciao Chi è? Ah, un'altra guardia Oh ma, ma guarda questi Ma io vi sto aiutando Da t'affanculo Vai a cagà Voglio vedere dove Cappero stava guardando lo spettro Qua Qua, 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 qua Sapevo che era questo Ah però No, 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 un attimo Non mi stanno attaccando Il dispositivo è usato per schermare i portali Vex Ma non più Sembra uno scudo di cui si parlava in città Nelle storie più antiche Nell'epoca in cui Non sapevamo ancora cosa fosse offerso Continuate ad attaccarmi E vaffanculo va Eh scusate Però mi avete rotto le palle Vi aiuto ad evadere Mi attaccate pure Eh Ah pure Mamma mia Recopriamo un po' di munizioni Ah sto lanciagranate A un solo colpo Bello Multikill Scusi E' qui la festa Un gramma raro Ci serve una sega Rilevo delle barriere più avanti E sotto di noi Molto in profondità Capitano Potrebbe significare più prigionieri Dovresti liberarli Failsafe Hanno provato a ucciderci Meglio quello Che morire in una gabbia Sì Concordo Stavolta ha ragione Mi attaccate Sì Eh niente ragazzi Io spero sempre Che Non facciano la cazzata Però A quanto pare La mia speranza è vana Questo l'ho raccolto Sì Preso Preso Oh adesso Noi ci allontaniamo Vedete che stanno uscendo le arpie Bravi Attaccatevi tra di voi Magari gli do una mano Ok Scusate O forse faccio prima Ad eliminarli tutti Con le mie manine Presi Tutti quanti Grande Da dove te ne esci Tu Preso Capitano Il collettivo Vex Sta inviando Una risposta Alla vostra invasione Ah buono Troppo tardi Se vogliono la guerra Cazzo Ricarica Perché qua mi diceva Dove sta guardando Lo spettro Che poi qua Non ci torniamo più Ancora più in basso Minchia So due Eh sì Cioè spettro Vedi un po' Che roba è Credo che stiano eseguendo Un test di auto Replicazione Fortuna sta fallendo Se i Vex Potessero manipolare La materia Così facilmente Saremmo in guai serio Ok allora Togliamoci di mezzo Prima questo No Ma porco Giuda Con la pedata Ma dai Assurdo Con la pedata Raga Con la pedata Troppo tardi Se vogliono la guerra Vabbè Allora Leviamo subito Di mezzo Uno Sì Prendimi pure A pedate Non lo so Questa non ce la facciamo Ucciderla Con una carica Partia di merda Dove sta Dove sta Buono Una sorpresina Una sorpresina Cercare di non metterci Da qua Kaboom Dai 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 Altri due colpi Un altro colpo Ok Finite Tu dove cazzo vai Morto Bene così Nessun vex O caduto in vista Mi spiace Si è dovuta finire così Failsafe Lo sforzo è stato Cordialmente apprezzato Amico spettro Vabbè Tu vai ad aiutare i caduti Failsafe Mi scusi Normale che Non è che ci dicono Grazie Sta cosa che Cos'è Hanno catturato Wow Parecchi caduti Questa è solo la punta Della struttura A quel gruppo Hanno detto di uccidersi A vicenda Il sopravvissuto Sarebbe stato liberato Nessuno ha sparato Un colpo Tranne che a noi Una lealtà ammirevole Oggi abbiamo tutti Imparato qualcosa Sì Che i vex Sono i peggiori Aspe aspe Oh Un ingramme esotico Dov'è che guarda Lo spettro Niente Allora Non abbiamo niente Da fare Dai sotto nero Vediamo un po' Dov'è andare Al rifugio Di nuovo E si vola Allora ragazzi Nel frattempo Vediamo che cosa abbiamo avuto No Si può buttare Non si butta Si può buttare L'ingramme esotico Non lo so Vediamo un po' Che cosa sarà Speriamo qualcosa Di cazzutissimo E sportiveggiante Se è un'arma Da 200 E schifo La butto direttamente Dai Che bellina La nostra nave Dai E carina Ah Ah io mi sono dimenticato Di vedere l'altro astore Beh intanto abbiamo avuto Questo emblema Accesso Dell'esodo È uguale Per evocare questo veicolo Ci vuole meno tempo Dai Va bene Ci siamo Andiamo a rifugio Andiamo a vedere L'ingramme esotico Che cosa ci da Secondo me è una cagata Cioè stiamo facendo Tutto Sto viaggio Per niente La storia Attende 240 Un'arma cinetica Vediamo No No 245 Ed è un fucile Automatico Sti cazzi Questo si butta To Bene bene Direi che Ci è andata bene La spada La lasciamo ragazzi Perché Aspettate Abbiamo 21 Attenzione Perché Mi sa Mi sa Che se vendiamo Un'altra roba esotica Allora Questa La togli Le mettiamo qua Questa Via Smontiamo Abbiamo No non ci ha dato La roba esotica Vediamo se questo Lo smontiamo Se ci da roba esotica Nada Vuoi che scriva qualcosa Voleva avere Siccome con 24 Scusate Con 24 cristalli Legendari Si può andare Da Xur Vabbè Sarà per un'altra volta Allora ragazzi Noi ci lasciamo qui Ci vediamo Nel prossimo episodio Io ce lo faccio Un tentativo a Xur Non si sa mai Un bacione Ciao a tutti Noi ci le faccio 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 Ne